Fontainebleau, 21-24 marzo. Atto primo della FI Nations Cup Eventing. L'Italia scende in campo con tre binomi e deve fare conti con i big di questa disciplina. A conti fatti, si rivela all'altezza. Un grande risultato quindi per Vittoria Panizzon con Borroff-Pennitz, Stefano Fioravanti e Nodindorval e Mattia Luciani con Orswear Parco, che sui campi francesi hanno siglato la terza posizione nella prima tappa di Coppa delle Nazioni. Davanti a loro le squadre leader di questa disciplina e non stupisce che a salire sul primo gradino del podio sia la Germania, medaglia d'oro a Londra, con la squadra formata da Michael Jung, Dirk Schrade, Andreas Diboschi e Frank Ostolt. In seconda posizione la nazione ospitante e quindi la Francia di Donatier Schaulì, Eric Vigenel, Didier Denim e Denis Mesfless. Per la classifica individuale si conferma in testa dopo le tre prove Michael Jung con la Biostatic Sam, mentre è quinta Vittoria Panizzon con Pennitz. Si apre così, con un bel risultato del tricolore, la stagione 2013 di Nations Cup e speriamo di veder salire sul podio i nostri azzurri sempre più in alto.